Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente con il gioco della successione, siamo con Arturo Passamuro primo di Svezia, sì di Svezia, di Scozia, ora sono un ubriaco di Svezia, di Scozia, figlio di Gellotz, pro nipote, nipote di Avionautè Andrew. Proseguiamo e visto che mi sono fatto la fama di essere uno bellicoso nello scorso episodio, non avete apprezzato minimamente il mio essere bellicoso, iniziamo subito con una guerra col Cile, perché il Cile deve morire. Poi la prossima guerra che voglio fare grossa è di chiare guerra agli ottomani, ma ho notato che Gellotz mi ha lasciato in Europa solo uomini, non mercenari, qua togli i miei mercenari, mandameli qua, voglio solo mercenario per fare la guerra contro, questi sono tutti uomini veri e propri e non mi piace, non mi piace per niente, quindi tutti i mercenari da quello che ho visto sono in, nelle Americhe, per di più stanno assediando, no, questi sono nostri per di più, e non ci sono, questi 90.000 sono nostri e non sono mercenari, wow, wow. Allora, questi qua ci sono tutti i mercenari, ok, tutti questi mercenari, questi sono mercenari, 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 che tutti questi mercenari li portiamo in quel del, della rosetta. Ok, quindi ci vorrà un po' di tempo a trasportare tutto, nel frattempo io dismetterei qualche armata, soprattutto di queste se non sono mercenari. Qua ci sono dei mercenari, tiramele via, ok, li mandiamo lì, questi non sono mercenari, li cancelliamo, tanto non ce ne facciamo, questi se li cancelliamo. Questi non sono mercenari, questi non sono mercenari, questi non sono mercenari, praticamente Gellox ha eliminato il mio, il mio prodigioso esercito totalmente fatto di mercenari, con cui io andavo in giro a seminare panico e terrore. Genoa, ma vai a cagare, ci mancavano solo più separatisti genovesi, ma dimmi te. Ok, tu vai qua e seda queste rivolte brutte. Dobbiamo assolutamente reclutare più mercenari, quindi, bando alle ciance, bando a tutto quello che può succedere, reclutiamo più mercenari. Ok, facciamo un altro esercito qua giù, facciamo un altro esercito qua giù, facciamo un altro esercito qua giù. Ok, così reclutiamo un bel pelo di mercenari, eh eh, bello, tutto molto bello. Un military leader a left us, eh vabbè a left us. Tanto abbiamo un sacco di punti diplomatici, sapete cosa si fanno quei punti diplomatici, vero? Si va qua, si va su Wolburgo e se li spende tutti, se li slurpa tutti lì. Poi mandiamo a convertire un po' di gente perché siamo brutti. Ok, questi stanno partendo, questi stanno partendo, questi ve li hanno totalmente cancellati. Mentre le mie colonie si divertiranno a distruggere il Cire. Perché, perché è giusto che sia così. Infatti combat ability più 5, wow. Ad esempio questi li cancelliamo, non mi interessano tutti questi uomini. In Sicilia abbiamo 80, 70 mila uomini. Ok, la monarchia sta declinando, non mi interessa. Qua abbiamo un sacco di uomini che non mi interessano. Va bene o un giusto un pelo? Punti militari, va bene. Difensivi. Questa cosa sono queste flotte? È una Uber flotte di trasporti, va bene. Ok, questi sono mercenari. I mercenari portiamoli tutti al confine. Questi sono sempre mercenari. Sono mercenari. Questi non sono mercenari, li cancelliamo. Ok, continuiamo a convertire. Questi sono mercenari, li portiamo a Ferrara. Questi sono mercenari, li portiamo a Mantua. Quanto perdiamo al mese? Solo 51. Che sfregio proprio. Ok. Oh, qua stanno arrivando i miei primi eserciti mercenari. Perfetto. Ad esempio, in Spagna abbiamo questi 13.000 che non ce ne facciamo nulla. Questi altri non ce ne facciamo nulla. Razionalizziamo i costi. La parola d'ordine è razionalizzare. O sei mercenario o vai a morire con me. Ad esempio, questi non mi interessano. Io vi voglio permettere una cosa. Che prima o poi... Oh, siamo in positivo addirittura adesso. Abbiamo finito anche la serie di Costa Rica qua. Molto bene, che lo diamo al French Brazil. Sempre trovarlo sarà un problema. French Brazil. Dov'è French Brazil? Eccolo qua. French Brazil. Finiamo questa guerra qua. Lo diamo al French Brazil. Mi dai i tuoi soldi? Ok, perfetto. Adesso questi 90 milani li splittiamo in due. Adesso siamo addirittura in positivo di più 1000. Wow forse potremmo permettermi anche qualcosina di più Ma ovviamente potremmo spendere qualcosina di più Per qualche mercenario in più Cosa ne pensate voi ragazzi Secondo me è un'idea geniale Esercito Ibrahimovic Ok Altri eserciti in arrivo Tutti mercenari Ok direi che per il prossimo anno Dichiariamo guerra agli ottomani Se non sono mercenari Se non sono mercenari a noi non ci interessa Questo è il motto di The Wall Ok Qua poi divideremo tutto tra di loro Tra le varie colonie e i vari cazzi e mazzi Ok qua stiamo reclutando altri mercenari Appena arriveranno tutte le nostre flotte Qua ci sono delle Addirittura delle navi Ok velocizziamo dove sono i nostri eserciti Eccoli che stanno tornando dal Wow quanta gente che viene reclutata per The Wall Ah siamo in perdita Oh siamo in perdita Vabbè abbiamo parecchie unità da dismettere Finito la serie di Marrakesh Questi uomini a Marrakesh Quelli cancelleremo non appena Non ci serviranno più Allora volevo vedere il focus un attimo su cos'era Giustamente su amministrativo Giustamente perché Questi 45.000 Qua ci sono altri 24.000 uomini Mercenari che Perché vedo qua che si bugga tutto E si sblagga tutto Oddio cos'è sto bug Ehm Pardon scusé moi Allora eliminiamo 45.000 uomini Che ci costano Soldi Perfetto Perfetto Ehm Diamo un leader Ovviamente per attaccare gli otto mani Vorrei iniziare da Ah che bello Solo mercenari Solo più mercenari Questi non sono mercenari Questi non sono mercenari Non siete mercenari Ma non vi vergognate nemmeno un po' Ok abbiamo occupato Questi territori qua Tu vai là Ehm Morto qualcuno Il nostro advisor militare Naturalmente prendiamo quello più Alto Qua ci sono altri eserciti mercenari Pronti a partire per il fronte ottomano E' una crociata vera e propria Questa Perdi 100.000 ducati Non erano 100.000 Ma Non ci interessa Ok la guarda contro il cile Sta andando per il meglio Poi dovrò Splittare Tutto quello che c'è da splittare Ci interessa poco Potrei dichiarare guerra anche alla plata Eh si eh No però aspettiamo Dichiarare guerra alla plata Perché non vorrei che poi si arrabbiassero Fin troppo Nel senso che subissero Troppo Troppo overestensione Vorrei finire la guerra con gli Con gli aragonesi Prima di Attaccare gli ottomani Bene qua sta morendo Muori Ok Aragona mi dai tutto quello che voglio Perché ovviamente Ovviamente Ciao Mi dai anche i tuoi soldi Perché ho bisogno di mantenere le mie forze mercenari Send the man Oh aspetta no Gli ho chiesto quello lassù Sì glielo ho chiesto Mi prese un corpo E ho detto No Wall ha già fatto la cazzata Come hai usato Wall Perché non posso fare il corto ledo Perché costa assai Eh costa assai Vabbè non importa Ok ci siamo presi anche una parte di Marocco Perché ci piacciono i marocchini Ovviamente perché sono fissato con gli ottomani Perché il mio obiettivo finale della partita è Eh qua c'è un problema di Nel mantenimento Questi voi siete tutti mercenari Sì che siete mercenari Allora io voglio il passaggio dai Gli ungheresi Voglio il passaggio agli ungheresi Ask for military access Yes Ah voi non mi interessa nulla Che voi subiate attrito sai Ecclutami un leader Madonna che leader merdoso Perché io c'ho sfida con i leader Ok Ok qua vorrei anche un leader Per cortesia Gli diamo il Quello schifoso Ok Direi dichiarare guerra agli ottomani Dannazione Ma chi se ne frega Ma chi se ne frega Dichiariamo guerra subito agli ottomani Con il causus belli Take Costantinopoli subito Take Costantinopoli subito Dov'è il primo forte Qua No non mi dà il passaggio Loro Oh Perché no Ho chiesto il passaggio a loro Vabbè invadi Questi signori qua Tutti molto brutti Ok Questi sono altri mercenari O sono uomini della patria Questi sono tutti mercenari Wow Oh adesso possiamo invadere Non so perché non mi facessi invadere Si era arrabbiato Leggermente Una Invasione Manpower free Questa proprio Ok Ok go 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 Abbiamo già annientato il primo esercito Molto bene Ok Possiamo far me Cortoledo Possiamo convertire Alta brutta gente Alta gente possiamo convertire Addirittura Vai Tu vai lì Questi sono tutti mercenari Ragazzi Tutti mercenari Perdiamo solo 40 al mese Tutti i mercenari Vadano Nella Bosnia Nell'Herzegovina Dovrei fare Fabbricare claim Lì non fabbricare claim Ma Build spy network Ecco cosa che volevo fare Ragazzi vi sono mancate Con le mie Io voglio attaccare Questi ribelli Oh Cos'è successo? Successo Abbiamo perso No Io ho bisogno di un leader No i miei mercenari Oh merda No 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 Fuggi No ma che cazzo Avemo tutte ste notifiche adesso Oh no Vabbè Un nuovo rete è salito al trono Eh James Stewart 19 anni Anche migliore di quello di prima No Merda Il problema è che non abbiamo leader Ma la nostra vera invasione È da nord Dove abbiamo gli altri leader? Sinceramente ne recluterei un altro A sto punto Ad esempio questo come si chiama? Bruce Beaton Bruce Beaton Bruce Vabbè tu muoierai Vabbè Bruce Beaton Eccolo qua Ola Tu non sei mercenario No Io voglio solo mercenario Vabbè che la nostra vera invasione Quanti uomini hanno gli ottomani? Wow Ne hanno pochi Rispetto a noi Non so nemmeno leggere questi uomini Sono tanti uomini Questi non sono mercenari Stanno subendo attrito E non è bella come cosa Quando tu hai dei non mercenari Che subiscono attrito No La nostra vera invasione Sta accadendo da qua Quindi Proseguiamo Ok Sei fertile Mi sembra di aver letto il nostro Ed Mentre qua Mandiamo altra gente a convertire E dove vuoi scappare tu? No Hai scappato per davvero Magari portiamo dei Ah no Ci sono anche altri non mercenari Ma i non mercenari ragazzi Che Perché limitarsi all'uso dei Dei non mercenari Quando possiamo avere Tu sei mercenario No Tu non sei mercenario Quale eresia Ma è questa? Ma che cazzo vuole il Cile? No Il Cile no Davvero ci vogliono attaccare? Sulle montagne per di più Ma non abbiamo un leader qua Guarda che sono impazziti Abbiamo rotto l'intelligenza artificiale Fai che venire qua tu E' tutto molto bello e interessante Con Con tutti questi mercenari Ok Andiamo ad Aleb Abbiamo battuto qualcuno Ok non mi interessa se state subendo Magicamente il manpower sta salendo Una guerra totalmente Manpower free questa Proprio manpower free Mentre qua ci sta laggando No il Cile vuole la pace Ma non se ne parla Forma british nation No non voglio andare nelle Nelle isole Colocina Wow stanno portando un po' Troppi uomini Persino per i miei gusti Contro chi sarà Stanno andando a prendere Contro di loro mi sa Che l'Albania cadrà Il che mi fa molto piacere Non abbiamo altri mercenari in giro per il mondo Ah stanno andando Devono ancora partire Per un lungo viaggio Vabbè Sarà un lungo viaggio Oh Cosa avete intenzione di fare Oh ci stanno attaccando Per Oh Scheisse Oh Scheisse Holy fuck Ok Sarà la guerra Delle guerre queste E della guerra Delle guerre Tutti i miei mercenari Come ho you lost Ma stiamo schiazzando Abbiamo perso Ma come si sono permessi Tutto l'esercito ottomano comunque è qui Quindi Se ci attaccano tutti lì Possiamo attaccare tranquillamente tutti di là Voi proseguite Ok Magari tu fai l'assedio di questo Anche se Non sei mercenario Quindi non sei degno di combattere Per me Però Alla fine Ok Va bene Ritiratevi Wow Si sono Divisi Uh Questa potrebbe essere una battaglia Che voglio combattere Ok Si 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 Wow Surprise Motherfucker Anche perché avevo il leader suo di livello 3 Wow Wipe Wiperino 260.000 uomini Incazzate in eri Qua abbiamo messo piedi E abbiamo rotto le mura Wow Va bene Abbiamo convertito un po' di gente Facciamo Che facciamo così Non c'è nessun altro Possiamo convertire No c'è qualcuno Possiamo convertire Da qualche parte Su questo globo Oh Bitch You are my little bitch Tu devi venirmi qua Oh sono arrivati altri mercenari Si gode Si gode Quando arriva Un esercito mercenario Proprio mi fa piacere Quando lo vedo Si va in Kosova Ok la guerra sta andando molto bene Gli ottomani sono già molto tristi Il Cile non è ancora tutto assediato Quindi Però magari questi mercenari Li faccio No no Che se la gestiscono le mie colonie La guerra laggiù Tanto c'ho 45.000 uomini A far nulla Quindi possono tranquillamente venirli Quante conversioni con successo Oh no Il generale di livello 3 Mi sarebbe servito Come il pane Mentre adesso si sono divisi Quindi sono Teodoro Wow Posso chiamare i russi? No Ok Oh qua Direi tu Ha 5.000 uomini Che rompono le valle Ok mi sembra che si stiano di nuovo Incazzando Dalla parte Dal lato asiatico del mondo Ci interessa poco Sinceramente Se si dividono per loro è la fine Perché abbiamo Questo era tutto il loro esercito Tipo quindi Auguri per voi L'Albagna spero che rolli molto in fretta Ah qua ci sono altri mercenari Perché gli mercenari non stanno facendo Quello che devono? Ok il Cile sta Completamente per crollare Quindi Quando sarà tutto crollato Lo divideremo Fra le nostre colonie Ok Sperando che questo assedio Finisca più in fretta Di quanto finisca l'altro Perché mi hanno Mi hanno ricacciato via Ok grazie Ci sono 300.000 uomini Che assediano l'Albania Nemmeno Mussolini Voleva così tanto Così ferocemente L'Albania L'assedio di Sham is over Qual è l'assedio di Sham? Ah questo qua L'Albania che non crolla però eh L'Albania testarda L'Albania è molto testarda Comunque direi che per questo primo episodio può bastare Avete capito che Arthur Primo Cos'è qua? Perdi 100.000 Ducati Sì va bene Che Arthur Primo Alias The World Ha mantenuto intatto il suo spirito bellicoso e belligerante Magari off video Anzi non lo faremo poi nel prossimo episodio Da loro Ecco qua c'è ad esempio l'Argentina Che non ha nulla Quindi potrei dare tutto Argentina Punto esclamativo Quindi potrei dare tutto a loro E E ciao E tante care cose E Nulla Io vi ringrazio per l'attenzione Un saluto alla prossima Ciao ciao Che cosa sta succedendo? Guarda l'Ettropa si sta prendendo con Mutata Molto interessante